Mercoledì 24 novembre, un nuovo appuntamento con Quilicata Tg, benvenuti. Il maltempo dei giorni scorsi è che purtroppo sta tornando, perché le previsioni prevedono che domani, giovedì, ci siano nuovamente dei temporali anche nella nostra città. Il maltempo dei giorni scorsi ci aveva provocato danni in varie parti della città, ve l'abbiamo raccontato nel corso dei vari telegiornali. La notte scorsa è crollato un muro sulla via Sant'Antonino che da oggi è chiusa al traffico. Vediamo le immagini in questo servizio. Il maltempo delle ultime settimane purtroppo continua a provocare danni a Licata. Prima ci sono stati gli allagamenti di Mollarella, poi i danni al porto provocati dalle quattro trombe d'arie che si sono registrate in città. Infine la grandine ha messo in ginocchio l'agricoltura e ora crollano i muri, come diretta conseguenza delle piogge copiose. La notte scorsa, sulla strada Sant'Antonino che parte dal cimitero dei Cappuccini e conduce nella zona collinare della città, è franato parte del muro di contenimento all'altezza della proprietà Caci, all'incrocio con l'arteria Trippò di Marianello che porta fino alla spiaggia. Pietre e detriti, considerato che si tratta di un muretto secco, hanno invaso la sede stradale rendendola impercorribile. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, la Protezione Civile e i tecnici del Comune. Il comandante dei Vigili Urbani, Giovanna Incorvaia, ha chiuso la strada al transito per evitare di far correre pericoli automobilisti e pedoni, ma ora vanno avviati gli interventi necessari per ripristinare il tratto di arterie. Ovviamente non basta portare via pietre e detriti, è necessario mettere in sicurezza l'intera area, rifare il muretto e verificare le condizioni della rimanente parte del contenimento. Il muretto a secco, di fatto, corre lungo tutta la Sant'Antonino e già di recente si erano verificati altri crolli. Per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni, prima di riprire la strada, è necessario verificarne per intero le condizioni. Diminuiscono per fortuna i casi di Covid-19 a Licata. Secondo quanto annunciato dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, che ogni giorno tiene il bollettino aggiornato sulla pandemia, rispetto ai 76 positivi di ieri a Licata, oggi i positivi sono 68, quindi 8 in meno rispetto a ieri, vuol dire che 8 persone sono guarite e non si registrano nuovi tamponi positivi, quindi è una buona notizia. Per quanto riguarda la provincia di Agrigento, invece si rileva un leggero aumento dei casi di positività al Covid-19. Nelle ultime ore, sempre secondo l'Asp, si sono ammalati in 59, questo sui 326 tamponi eseguiti ieri. Nessuno è in ospedale, quindi non ci sono casi gravi, ci sono ben 53 guariti e per fortuna non si registrano nuovi decessi. Cambiamo argomento, gli stabilimenti balneari siciliani e quindi considerato quanti ce ne sono a Licata, la vicenda riguarda anche la nostra città, protestano contro la decisione del Consiglio di Stato che è intervenuta sull'estensione delle concessioni balneari. Domani ci sarà un confronto importante della CNA balneari per affrontare l'argomento, ma vediamo che cosa sta accadendo in questo servizio. Le imprese balneari non ci stanno, pronte a difendere le proprie regioni contro la recente pronuncia del Consiglio di Stato che di fatto ha disconosciuto l'estensione della durata delle concessioni balneari per gli stabilimenti, fissando un orizzonte temporale strettissimo per la continuità aziendale di migliaia di attività nel territorio nazionale. A prendere posizione in questo senso è la CNA balneari Sicilia in occasione dell'annuale appuntamento del settore che si terrà domani, giovedì 25 novembre, a Castellarmale del Golfo presso l'hotel Almadaring con inizio alle 10.30. Saranno presenti, spiega CNA, i vertici regionali della Confederazione, il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione e quelli del settore, Guglielmo Pacchione, Giampaolo Miceri e i rappresentanti territoriali trapanesi, oltre a dirigenti e imprenditori delle CNA provinciali. Verranno il loro contributo all'evento Cristiano Tomei e Sabina Cardinali, rispettivamente coordinatore e presidente nazionale di CNA balneari. È previsto l'intervento dalla stessore regionale al territorio ambiente, Totò Cordaro. In Sicilia, aggiunge CNA balneari, le concessioni demaniali sono oltre 3.000 e più di un terzo sono riferibili a stabilimenti balneari. Poi ci sono pontini, esercizi sportivi, esercizi commerciali, imprese turistiche, eccetera. Un asset economico enorme rispetto al quale si impone una riflessione attenta e rigorosa, un dibattito che deve tenere conto di tutti gli interessi in campo, partendo dalla peculiarità del territorio, dalle scelte messe in campo proprio in Sicilia e soprattutto dal lavoro di decine di migliaia di persone. Il Comune di Licata è pronto a garantire, come fa ogni anno, il trasporto extraurbano gratuito per gli studenti pendolari, con le quali cioè frequentano le scuole di istruzione superiore lontano dalla nostra città. Il Comune ha reso noto che il termine ultimo per presentare l'Isee, quindi ottenere eventualmente la possibilità di viaggiare gratuitamente, scade domani 25 novembre. Per quanto riguarda l'Isee, possono presentare la domanda coloro i quali hanno un Isee inferiore a 10.632,94 Euro all'anno. Tutte le informazioni presso la biblioteca comunale Luigi Vitali di Licata. Ci spostiamo a Campobello di Licata dove c'è un contenzioso tra il Comune e due associazioni che garantiscono il servizio di comunità per i minori non accompagnati. Il Comune dovrebbe alle due comunità ben 1.200.000 Euro, ma l'ente si oppone ai criteri che stabiliscono appunto di dare queste somme alle due comunità. Ieri il sindaco di Campobello di Licata, Gianni Picone, ha sottoposto la questione al Presidente della Regione, Nello Musumeci. Vediamo i dettagli nel servizio. Erogare simili somme porterebbe le casse comunali in una crisi irreversibile che vanificherebbe tutti i sacrifici condotti dai cittadini campobelesi dal 2014, quando il Consiglio Comunale approvò l'avvio di un piano di riequilibrio finanziario allo scopo di evitare le conseguenze pesantissime di un dissesto finanziario. A dirlo è Gianni Picone, sindaco di Campobello di Licata, a proposito del contenzioso che l'ente ha con due comunità per minori stranieri non accompagnati. Il Comune, secondo le comunità, dovrebbe dare 1.200.000 Euro come differenza tra ciò che spendono e quanto viene loro rimborsato. Ma l'ente dice di non essere in grado di affrontare una simile spesa e la questione, ieri, il sindaco l'ha sottoposto al Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Fino al 2013, scrive Picone, il Comune, nel rispetto della normativa vigente all'epoca, si faceva carico del 20% del costo complessivo delle rette. Nel 2014 la conferenza Stato-Regioni stabiliva un importo pro capite di 45 euro al giorno, non specificando che nessun ora aggiuntivo doveva gravare sull'ente locale, se non attraverso apposite convenzioni, che il Comune di Campobello di Licata non ha mai sottoscritto. Le somme pervenute sono state sempre erogate alle comunità. Ciò nonostante, le due comunità alloggio pretendono, aggiunge Picone, che il Comune si faccia carico della differenza tra quanto da loro speso e quanto viene loro rimborsato. Il Comune, in questa fase, secondo il giudice, dovrebbe comunque farsi carico di tale costo. Il Presidente Musumeci, conclude il Sindaco di Campobello di Licata, ha mostrato di comprendere la nostra posizione, di conoscere e apprezzare gli sforzi di risanamento fatti negli ultimi anni e ha affermato che è inaccettabile che il nostro Comune possa rischiare il dissesto per cause totalmente estranee alle responsabilità dell'amministrazione. Al Presidente ho chiesto che vengano erogati dei ristori in modo tale da poter soddisfare le richieste della comunità. L'incontro si è chiuso con l'impegno del Presidente Musumeci ad affrontare la questione convocando un tavolo di lavoro. Dieci anni fa Don Tommaso Pace, vicario foranio da alcuni giorni di Licata e Palma di Montechiaro, è stato ordinato sacerdote dall'allora arcivescovo metropolita di Agrigento, Francesco Montenegro. L'anniversario ricorre domani e l'unità pastorale di Sette Spade Carmine e San Domenico ha organizzato per le 18 nella chiesa del Carmine e Licata una celebrazione eucaristica di ringraziamento, quindi chi volesse partecipare domani alle 18. Siamo giunti alla pagina dello sport, calcio, in Licata e in festa perché non solo ha ottenuto due vittorie consecutive, domenica scorsa ha battuto il Forte Acireale ma anche perché la squadra sta andando decisamente bene. Pippo Romano, tecnico raggiolo blu, però non si monta la testa e dice noi dobbiamo pensare a salvarci il più presto possibile. Vediamo questa intervista di William Vitali con Pippo Romano. Noi guardiamo la classifica ma la guardiamo sempre in basso e mai in alto, stiamo rispettando quello che è il nostro ruolino di marcia, arrivare alla salvezza il prima possibile e poi cercare di mettere dentro tanti ragazzi giovani che abbiamo in rosa perché credo che il futuro sia dei giovani. Abbiamo una squadra interessante, speriamo di arrivarci prima e buttare le basi per quello che è il futuro. Bene, in bocca al lupo a Licata Calcio e con l'intervista Romano si conclude l'edizione odierna di Quilicata Tg. Grazie per l'ascolto, ci rivediamo venerdì. A presto!